Musica Per me è importante la geografia perché ti permette di capire tante cose che stanno succedendo al mondo compreso alcune scelte politiche che vengono fatte e soprattutto perché ti permette di capire in che parte del mondo vuoi vivere E' importante per conoscere nuove culture perché non c'è solo la nostra e quindi è bello sapere che nel mondo ci sono altri posti da visitare Anche per portare rispetto alle altre persone Fondamentale per essere un amore Don't stop Don't stop Don't stop Non c'è solo la nostra e quindi è 먹ata